I risultati della trimestrale di Apple hanno battuto le stime degli analisti. Il fatturato totale però è calato del 3%, anche se l'azienda ha dichiarato che il calo è legato all'oscillazione del cambio del dollaro con le altre valute. Se il cambio fosse rimasto costante, infatti, la crescita del fatturato sarebbe stata positiva. Potrebbe comunque essere un campanello d'allarme? Facciamo un passo indietro. Il prezzo delle azioni, nel lungo termine, sale o scende, seguendo i fondamentali dell'azienda. Gli utili e il flusso di cassa sono determinanti per la crescita del prezzo delle azioni. I profitti spingono le azioni verso l'alto e una cosa in cui Apple è incredibilmente forte è proprio fare soldi. Dobbiamo immaginare le aziende come se fossero delle stampanti di soldi. Più soldi riescono a stampare ogni anno, più alto sarà il loro valore. Negli ultimi 12 mesi, Apple ha registrato circa 100 miliardi di dollari di free cash flow. Si tratta dei soldi rimasti in cassa dopo aver pagato tutte le spese e con i quali Apple può fare ciò che vuole. Nella maggior parte dei casi, Apple usa questo denaro per fare quello che viene chiamato buyback, cioè il riacquisto delle proprie azioni. Meno azioni ci sono in circolazione, più aumenta il loro valore. Questo è il primo problema per chi ha una visione pessimista su Apple e prevede che il prezzo delle azioni possa calare molto. Infatti, per far calare il prezzo, servirebbero molte persone che vendono azioni e poche persone che acquistano azioni. Sappiamo però che c'è sempre un grande compratore di azioni Apple e questo compratore è proprio Apple. Il numero di azioni in circolazione, infatti, è in forte calo anno dopo anno. Apple ha talmente tanti soldi in cassa che può gestire a proprio piacimento il riacquisto di azioni, così da riuscire a battere sempre le stime degli analisti per quanto riguarda gli utili per azione. Durante l'ultima trimestrale hanno annunciato che faranno buyback per altri 90 miliardi di dollari. Dal 2013 a oggi, solo per due volte su 40, Apple non ha battuto le stime degli analisti. Avendo totale flessibilità con i buyback, riescono sempre a far quadrare i conti a proprio favore e questo è un aspetto fondamentale da non sottovalutare. A proposito di buyback, penso sia utile ricordare le parole di Warren Buffett, che oltre a essere il più grande investitore di sempre, ha ben 116 miliardi di dollari investiti in azioni Apple. Buffett ha spiegato molto chiaramente che il riacquisto di azioni proprie genera molto valore per gli azionisti, ma soltanto se viene effettuato quando i prezzi delle azioni non sono troppo alti. Viene quindi da chiedersi se Apple non stia esagerando con il buyback solamente per mantenere altro il prezzo delle azioni. Una possibile spiegazione ce l'ha appena fornita proprio Warren Buffett durante la riunione annuale per gli azionisti di due giorni fa. Per lui Apple è un'azienda talmente eccezionale da non poterla trattare con gli stessi criteri di valutazione usati per le altre aziende. Questo può essere il motivo per cui non abbia mai criticato i buyback di Apple, ma anzi ha sempre elogiato l'amministratore delegato Tim Cook per la gestione aziendale. Noi investitori ormai sappiamo cosa succede ogni volta che le azioni Apple scendono. L'azienda farà buyback, esercitando ulteriore pressione al rialzo sul prezzo delle azioni. Ma questa non è la ragione principale per cui i detrattori di Apple rischiano di sbagliarsi. C'è un altro fattore che vorrei sottolineare e che non sempre viene preso in considerazione quando si tratta di Apple. Tutti si fissano sulla vendita dei dispositivi come iPhone e iPad, ma questi non sono il più grande fattore di crescita per Apple, anche perché il fatturato è diminuito del 3% rispetto allo scorso anno. I più pessimisti diranno quindi che la crescita dell'azienda è finita, la società ha raggiunto la maturità ed è ormai diventata un'azione solo da dividendo, come Coca-Cola. Il problema di concentrarsi solo sul fatturato totale, senza guardare come sia composto, è uno sbaglio. Il fatturato di alcuni prodotti e servizi vale molto di più di altri. Ad esempio, le entrate di Walmart lo scorso anno sono state più di 500 miliardi di dollari. Walmart ha un fatturato enorme, ma allo stesso tempo, Microsoft vale molto di più di Walmart, nonostante abbia meno della metà delle entrate. Come può essere che un'azienda abbia meno entrate, ma valga molto di più? Dipende dai margini. Le entrate di Microsoft, ad esempio, sono più preziose di quelle di Walmart. E allo stesso modo possiamo esaminare la divisione del fatturato di Apple. Apple guadagna attraverso diverse linee di prodotti. La parte più preziosa delle entrate di Apple è la parte con il margine più alto, e sto parlando dei servizi digitali. Questi servizi includono. Includono Apple Care, Apple Music, Apple News, Apple Fitness, Apple TV, oltre a tutte le vendite tramite App Store. Sono tutti servizi completamente digitali che costano pochissimo all'azienda e possono essere venduti a un numero illimitato di persone. Le vendite digitali generano fatturato ad alto margine, e questa è la parte di Apple che sta crescendo di più. Parliamo di quasi 21 miliardi di dollari solo negli ultimi tre mesi, una crescita del 5% rispetto a un anno fa. Bisogna ammettere che questa crescita è calata rispetto al recente passato, ma è sufficiente a garantire un flusso di cassa davvero importante con cui ricompensare gli azionisti tramite dividendi e buyback. Le previsioni ritengono che la porzione di fatturato legata alla vendita di iPhone possa calare fino al 22% nei prossimi anni, mentre il fatturato legato ai servizi possa superare il 50%. Apple infatti sta aumentando il numero di utenti abbonati ai servizi, di circa 30-40 milioni ogni tre mesi, e attualmente Apple ha dichiarato di avere 975 milioni di utenti abbonati ai servizi, 150 milioni in più rispetto a un anno fa, quasi un miliardo di persone totali. Questo è il tipo di crescita più importante che l'azienda deve ricercare. Se la società stesse aumentando le vendite dei dispositivi, ma i suoi abbonati diminuissero, sarebbe un problema, ma non è quello che sta accadendo. Le vendite dei telefoni e dei dispositivi stanno procedendo normalmente, ma, cosa più importante, le entrate dai servizi digitali stanno crescendo. Sarebbe quindi un errore per gli investitori concentrarsi solo sulle entrate totali e dire che la crescita dell'azienda sia finita. Innanzitutto perché Apple lavora sempre sotto traccia ai nuovi prodotti e ha inoltre appena rilasciato anche la possibilità di avere un conto deposito che permette di ottenere interessi del 4%. In secondo luogo, non è l'innovazione a guidare la crescita del prezzo delle azioni. Sono i profitti che guidano il prezzo delle azioni. Le entrate di Apple stanno rallentando, è vero, ma la porzione di fatturato dei servizi digitali, che ha i margini più elevati, continua a crescere. Apple ha un gross margin superiore al 40%. Semplificando, significa che Apple vende a 100 euro ciò che produce spendendone 60. L'azienda ha anche un altro vantaggio, molto grande. I clienti infatti si ritrovano bloccati nell'ecosistema di Apple e diventa sempre più difficile poterne uscire. A tal proposito, lo stesso Warren Buffett ha citato un esempio perfetto. Provate a chiedere a un utente Apple se rinuncerebbe a qualsiasi prodotto Apple in cambio di 10.000 euro. La risposta sarà quasi sicuramente no. Se stessimo parlando di un'altra marca di telefoni, la risposta sarebbe sì. Ecco il vantaggio di Apple rispetto ad altre aziende. Ovviamente, c'è sempre la possibilità che io possa sbagliarmi. E in tal caso, le azioni Apple potranno anche scendere fino a 100 dollari o anche meno. Ma onestamente, penso che un calo di questo tipo potrebbe accadere solo durante un crollo generale del mercato. In ogni caso, l'azienda continuerà a riacquistare le proprie azioni ogni volta che ci sarà un calo, favorendo così la crescita di prezzo a lungo termine. Se acquistasse azioni Apple alle valutazioni attuali però, non mi sentirei tranquillissimo. Preferisco quindi aspettare valutazioni più basse in modo da avere un margine di sicurezza più ampio e di conseguenza anche un potenziale rendimento maggiore. A proposito, fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe scoprire come stabilisco se un'azienda è sopravvalutata o sottovalutata. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie per la visione!